Io preferivo non fare gol e vincere la partita, purtroppo come capita nelle ultime partite per disattenzione nostra prendiamo dei gol e quindi sicuramente lì bisogna migliorare perché era una partita finita e non possiamo pareggiare questa perdita perché era una partita molto importante perché sia noi che il Torino arriviamo da un bel momento, era molto importante questi dei punti, quindi c'è tanta rabbia, speriamo di portare questa rabbia nella prossima partita che non sarà facile, però penso che nelle ultime partite le prestazioni ci sono state, come ho detto prima purtroppo per errori nostri tante volte roviniamo le partite. Oggi è stato un modo un po' diverso ma è il mister che dice il modo, noi ci siamo trovati bene, ci dobbiamo adattare, penso che davanti sia Tugo, Luis, siamo tutti giocatori che possiamo far bene quei ruoli lì, quindi sicuramente però in queste partite ci vuole di più per portare a casa dei punti perché non è stato così. E che qualcosa in più ci vorrà anche domenica sera perché si va su un campo difficile all'Olimpico di Roma contro i giallorossi che ora sembrano di nuovo tornati in un ottimo momento. Sì, proprio per questo perché sono tornati a fare due vittorie di fila, quindi sarà dura però come ho detto oggi sicuramente siamo molto arrabbiati per questi due punti persi e dobbiamo andare lì con tutto quello che abbiamo per cercare di fare un bel risultato. Grazie. Grazie.